persona lei avrà messo da parte le sue belle 7.000 lire 7.000 lire per lei 7.000 lire per i suoi figli perché lei sicuramente ama i suoi figli vero e stia tranquilla che il suo 2000 sarà veramente un 2000 pieno di serenità prima di tutto quattrini come seconda cosa la mettiamo in seconda i quattrini le mettiamo in secondo luogo i soldi i 700 milioni che lei può vincere con queste 7.000 che tiene lei perché non le deve dare al maestro le 7.000 le mette da parte le 7.000 lei